Buonasera e ben trovati con la puntata numero 13 di Pianeta Wisp, la trasmissione che parla di sport amatoriale a 360 gradi anche in questa puntata. Tanti ospiti, servizi, le nostre rubriche, ovviamente faremo il punto per quanto riguarda i campionati di calcio a 11, dall'eccellenza fino alla seconda divisione, ma avremo anche un'ampia pagina dedicata al calcio a 5, come è ormai consuetudine in questo nostro nuovo ciclo di trasmissioni. Visto che la carne al fuoco è tanta, vado di corsa e inizio subito presentando il mio abituale compagno di viaggio, l'uomo dei numeri Riccardo Buffetti. Grazie Andrea, buonasera e ben ritrovati a tutti. Ciao Riccardo, in questo primo blocco un ospite gradito che torna ed è la sua prima presenza quest'anno a Pianeta Wisp, Fedele Laurenzi, che attualmente è l'allenatore della rappresentativa femminile Wisp, ma ovviamente ha una grande esperienza da allenatore tantissimi anni. Con te, Fedele, ovviamente faremo un po' il punto della situazione, nell'eccellenza, ma anche di quello che è stato l'impegno della rappresentativa a Retina, che tra l'altro è esordito in maniera molto convincente contro Firenze. Intanto buonasera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Fedele, questa rappresentativa t'ha convinto? Sì. O Firenze è troppo debole? No, ha convinto, perché a volte quando una squadra vince faccio i mezzi, c'è sempre che gli avversari sono deboli, ma diciamo che ha giocato bene in Arezzo. Poi sono stato impressionato dalla coppia centrale dell'Arezzo con quei due, io penso che ha la fortuna di averli, non è difficile vincere i campionati, perché due centrali difensivi in quel modo, come benedetti i giorni, penso che sono sprecati a questi livelli qui. La coppia centrale dell'Asacalcio, che poi andremo a vedere la classifica. Ha subito solo sei reti, cinque in campionato. Mi hanno impressionato, poi davanti c'è qualcuno che è bravino, quindi diventa facile vincere con quella squadra lì. Ora vedremo il proseguo, ma io sono convinto che quest'anno faranno molto bene. Ecco, tra l'altro intanto il nostro regista Jonathan Barilari ci sta mandando insomma un'impressione, proprio l'immagine, i gol della vittoria rotonda della rappresentativa a Retina contro Firenze. Riccardo, dato che noi abbiamo avuto anche modo di commentarla, possiamo confermare quello che diceva Fedele Laurenzi, 4-3-3, molto molto efficace. Sì, diciamo che ha condizionato la partita un po' il campo, il tenuto di gioco di Montefeltro è un campo piccolo, i valori non sono avuti fuori, però a Retina sta brava a rimanere bene in campo, grazie a una coppia centrale che non ha permesso a Firenze di effettuare praticamente tiri verso la porta di Arezzo. Centrocampisti abili a smistare il pallone, a lanciare sulle fasce gli esterni, un centroavanti come Berterame che crea spazi e segna, tanto ha fatto anche uno dei quattro gol, due petruccioli e uno certini su calcio e punizione. Un Arezzo che ha giocato bene, ha convinto, ma adesso c'è da giocare il ritorno che sarà a Firenze il 7 marzo. Assolutamente, ovviamente un ritorno che vede ampiamente il favore del pronostico per Arezzo, però come abbiamo detto Riccardo anche nel corso della nostra telecronaca è anche l'occasione per oliare ancora di più i meccanismi, no Fedele, proprio in vista del proseguo del torneo. A quello sicuramente, però sai il turno ha meno di cose clamorose e non ci sono problemi, però nel calcio non bisogna andare a Firenze, giocare convinti, tranquilli, come abbiamo fatto alla partita dell'andata, perché la squadra quest'anno secondo me è molto più forte degli anni passati, perché ho visto veramente questa coppia centrale, sono di un'altra categoria, veramente, sono sprecati, ecco come ripeto prima, sono sprecati a questi livelli qui. Allora abbiamo citato la coppia centrale dell'Asa Calcio Anghiari, andiamo ovviamente in eccellenza a Girone A dove l'Asa è grande protagonista in questa stagione regolare. Riccardo, vediamo i risultati della classifica dopo l'ultimo turno. Sì, partiamo dal Girone A di eccellenza, Stelazura batte 3-0 il River Partina, poi New Old Boca, CSBS Casentino 3-0, la Chiasa batte in trasferta 2-1 il Chiusi Verna, 0-0 fra Asa e Ciao Club, col salone 3-0 sul Gricignano, Logge Club, Spartac Pibiana 0-0, il Gragnano Superpop a 2-0. In testa classifica l'Asa Calcio Anghiari con 26 punti, 22 gol fatti e 6 gol subiti, secondi 3 squadre a 21 punti, Stelazura, Spartac Pibiana e River Partina. Logge Club col salone poi a 20 punti, New Old Boca 19, a 14 Ciao Club, Chiasa e CSBS Casentino, Gragnano 13, Chiusi Verna 10, Superpop a 9 e Gricignano 6. Allora Riccardo, ti chiedo il punto della situazione, ricordiamo che qui ci sono diverse gare da recuperare perché nella settimana scorsa il turno è stato proprio falcidiato per mal tempo. Sì, attualmente comanda sempre l'Asa Calcio anche con questo pareggio contro Ciao Club, in testa classifica con 5 punti di lunghezza dalle inseguitrici, Stelazura, Spartac Pibiana e River Partina, in attesa ovviamente di conoscere gli esiti dei recuperi. Diciamo poi c'è una frattura verso metà classifica, dall'Oceo Club e New Old Boca ci sono 5 punti di stacco, quindi secondo me dal New Old Boca alla Stelazura si giocheranno per i playoff, la Calcio tenterà fino all'ultimo di cercare di vincere ieri del campionato. Fedele, dopo ti farò commentare il girone B che conosci e segui con più attenzione, però ti chiedo in generale qual è il livello dell'eccellenza Wisp? Il livello è abbastanza discreto perché sai benissimo che molti accettano andare a giocare in questi campionati, vuoi per vari motivi familiari, di lavoro, di impegni, quindi non se la sentono più di andare a fare dilettanti, magari gli allenamenti sono superiori due o tre a settimana, magari anche per amicizia, stando nel paese accettano questa realtà e si divertono ugualmente perché il campionato, un campionato di eccellenza, sicuramente è superiore a una terza categoria, perché sono squadre di eccellenza che stravincerebbero il campionato di terza categoria, ma non è, lo dico per presunzione, perché è un dato di fatto, perché i squadri come la Sanghiari, lo stesso Dante nel girone di qua, i squadri come il Renzino e il Papata sono squadre fortissime, l'altro girone lo conosco un po' meno, però so che anche lì lo Sparta Bibbiena è una realtà, è una squadra fortissima, tutti gli anni sempre lì, nelle prime posizioni, e pertanto per mantenersi sempre a vertici bisogna avere la struttura e la colatura di squadra. Riccardo, andiamo a vedere invece quello che è accaduto nel girone di eccellenza dopo l'ultimo turno. Sì, il Manciano ha avvaluto 3 a 2 la frate Smonterchi, il riguotino doc 4 a 0 su Arezzo United, Papata Cavallino 4 a 1, 1 a 1 fra Cortona Camuscia e Penna, Dante 7 torri 2 a 0, Pescaiola e Renzino 1 a 0, e 3 a 3 fra Vitiano e Drunkenlions. Per questi risultati la classifica vede in testa il Papata con 27 punti, poi Manciano e Dante 26, Penna 22, Renzino, Cortona Camuscia 19, Pescaiola 17, a 16 punti Cavallino 7 torri e il riguotino doc, frate Smonterchi a 9 punti, Vitiano a 7, e a 6 Arezzo United e Drunkenlions. È la quinta giornata di ritorno, la prossima avremo due grandi big match, quello fra Penna e Papata e quello fra Renzino e Dante. Sicuramente in testa la classifica potrebbe in un certo senso anche cambiare, Riccardo però ti chiede un commento a quest'ultimo turno. Beh, qui si è creata una profonda spaccatura per i playoff, e per il primo posto dal terzo posto al quarto, dove sono quattro punti di distanza tra Manciano-Dante e Penna, quindi probabilmente potrebbero essere a meno che di sorprese Papata-Manciano e Dante che giocheranno la vittoria di questo campionato. Per quanto riguarda la zona playoff, il Penna ha comunque tre punti di distanza dal Renzino e del corto Camuscia, che dovranno lottare fino all'ultimo per cercare di entrare nelle quattro posizioni. Fedele, ti chiedo un commento. Intanto questo Papata, che ormai è lassù dall'inizio della stagione, e l'abbiamo detto spesso, anche con Riccardo, certi valori si sono un po' rimescolati. Penso il Dante comunque sempre lassù, ma un Renzino che deve inseguire, lo stesso Rigutino, pescaiola idem. Il Papata è una realtà, perché già l'anno scorso a me mi hanno impressionato. Come squadra forse era la squadra che più mi è piaciuta per come stare in campo e per come ha giocato, come interpretava le partite. E' chiaro, poi c'è il Dante, che ormai ha una certa esperienza. Sono collaudati, sono sempre lì, sono sempre lì davanti, non sbagliano colpo. Secondo me il campionato se lo giocano queste squadre qui, e credo che per il quarto posto sarà dura sia per Renzino che per Camuscia viaccio fare la pena, perché tre punti non sono pochi. Se poi i nostri campionati, come sapete, danno due punti. Quindi ha tutto possibile. Il Renzino, secondo me, ha deluso un po', ma anche perché, da quanto ne so, da come mi è stato riferito, hanno avuto un sacco di defensioni tra infortuni squalificate. Però, ecco, per il quarto posto vedo la penna favorita sulle altre. Fedele, allora abbiamo la pagina dedicata alla rappresentativa femminile. Ancora alcune settimane prima del vostro esordio, però tu stai già lavorando sul gruppo, sulla squadra. Ne parlavamo anche mentre commentavamo poi la gara di rappresentativa tra Rezzo e Firenze. Come procede questo lavoro di amalgama del gruppo in vista poi del torneo ufficiale? A me quest'anno mi è stato chiesto di creare questo gruppo, diciamo se gruppo si vuole chiamare, perché i gruppi esistono se quando c'è i risultati, perché quando i risultati ci sono i gruppi non esistono, perché poi, sai, una volta c'è quello, una volta c'è quell'altro, non sempre, sono sempre solo i giocatori, cambiano spesso. E quindi il gruppo... Ecco, ma su questo, che differenza c'è tra allenare gli uomini e le donne? Ma io mi trovo meglio allenare le donne, ma non è perché... Perché le donne sono molto più serie degli uomini, da questo lato qui. Sono molto più precise, puntuali, non saltano all'allenamenti. Con le donne bisogna saperci un po' fare, perché bisogna stare attenti, perché non si può fare il complimento alla persona singola, perché le donne hanno queste gelosie. Però dal lato della serietà e dell'impegno, le donne non me ne vogliono i maschietti, però metto la zappa su piedi anche per me. Le donne sono molto più serie. Ecco, subito, pungente, come al solito. È un dato di fatto, perché... Ci piace schiette sinceramente. No, no, ma io ho avuto già un'esperienza a livello di calcio a 11, la Serie B dell'Arezzo. Io devo dire la verità, mi veniva all'allenamenti la sera alle 8, in pieno inverno, ragazze che abitavano a Anghiari, a Città di Castello, infortunate, venivano solo a vedere gli allenamenti. Oggigiorno siete all'inizio nella squadra maschile che fa la prima categoria della promozione, trovano sempre le scuse per non venire agli allenamenti. Su 20 giocatori te ne vieni 15, ma sei già fortunato se te ne vieni 15. Ti chiedo, Fedele, se questo gruppo che stai, come dire, costruendo settimana dopo settimana, con quali obiettivi si presenterà alla manifestazione e che prospettive, soprattutto anche guardando al futuro ai prossimi anni. L'impegno che ho preso è in prospettiva. Bisogna creare i presupposti per poter andare avanti nel tempo, perché ci sono delle ragazze molto interessanti. Io già ho fatto tre raduni e ho visionato una venticinquena di ragazze. È chiaro che poi dovrò stringere, 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 ma sempre tenendo conto anche delle altre che verranno escluse per i regionali e per i campionati nazionali che si svolgeranno a Montecatini l'11, il 12, il 13 maggio. Invece i regionali ci sono l'8 aprile. Ora noi continueremo ad allenarci. Le ragazze mi stanno seguendo perché si stanno divertendo. Gli faccio degli allenamenti ben mirati. Si divertono, sono contento. Non mancano mai gli allenamenti. Anzi, sono loro che mi dicono quando si rifà un altro raduno bisogna avere la possibilità anche di avere i campi a disposizione. All'aperto ora è freddo, non mi sembra il caso di farli. Comunque da ora a aprile faremo altri tre o quattro raduni e poi dopo faremo un piccolo break per riprendere metà aprile per portare le ragazze a un livello ottimale per i campionati nazionali. Io sono fiducioso perché il materiale c'è dipende dalla volontà che hanno loro ma soprattutto da parte mia di sapere scegliere le persone giuste e quadrare il tutto affinché le cose si svolgano per il verso giusto. L'esperienza sicuramente non ti manca. in bocca al lupo ovviamente per questa nuova avventura. Riccardo, prima di chiudere questo primo spazio andiamo a vedere quelli che sono gli accoppiamenti anzi no, il primo turno della Coppa Amatori perché si comincia anche con la Coppa. Sette gironi da tre squadre per un totale di 21, grande record quest'anno della Coppa Amatori. Andiamo a vedere i gironi come sono composti. Il girone A è composto da Saione, Castelfranco e Deportivo Capolona. Il girone B da Rigomagno, Battifolle e Randaggia. Il girone C da Chianacce, Pergo e San Polo. Il girone D composto da Indicatore, Quarata, Pian Discoese. Il girone Ciclone, Barla Siesta e Fonte Rosa. Il girone F, River Club, Motina e Gagliarda. Il girone G, Marcea, Real Pieve e San Cipriano. Grazie Riccardo, seguiremo nel corso delle prossime settimane anche l'evolversi della Coppa Amatori. Io ringrazio Fedele Laurenzi e lo ringrazio anche per il contributo che ci ha dato nell'analisi sia della gara della rappresentativa che dell'eccellenza, allenatore della rappresentativa femminile. Lo ritroveremo magari poi quando le sue ragazze scenderanno in campo. Adesso un po' di pubblicità e poi seconda parte di Pianeta Wisp. Seconda parte di Pianeta Wisp dopo aver parlato di eccellenza, aver fatto il punto con Fedele Laurenzi sia sulla rappresentativa che per quanto concerne i futuri impegni della rappresentativa femminile. Abbiamo parlato con lui anche però del primo impegno della rappresentativa maschile di calcio a 11. Riccardo è il momento di aprire la pagina dedicata alla prima divisione quindi continueremo a parlare di calcio a 11 ma apriremo anche lo spazio ampio dedicato alla calcio a 5 perché lo avremo in questo spazio e poi nella terza parte. Allora comincio presentando Francesco Fantoni che è presidente, allenatore, factotum possiamo dire, del Borussa Dormo, formazione di calcio a 5 che milita nel campionato di serie B, girone B. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Come fai a districarti in tutti questi ruoli alla fine? Beh, l'aiuto logicamente è sempre di tutti quelli della squadra. Siamo 5 dirigenti che cediamo da fare tutto l'anno per riuscire a tenere insieme un gruppo tra infortuni, gente che non ha più voglia, per le trasferte e rimpiazzare i vari giocatori però stiamo andando abbastanza bene diciamo. Ecco, scusi, Francesco è anche arbitro Wisp. Ah ecco, quindi come dire, tra le tante... Ha tempo anche per fare l'arbitro. Esatto. Come si fa a recuperare quelli che non hanno più voglia? Si riesce a convincere oppure si vede di trovare altri elementi? Se non c'è voglia non c'è divertimento. Questa è la prima regola della nostra squadra. Forzare non si forza nessuno. Speriamo che gli venga la voglia. Il gruppo c'è, ci stiamo divertendo. Tutte le sere che si va a giocare è una scena fuori oppure organizziamo anche extra calcio la comitiva per andare al mare o per andare a destra-sinistra. Quindi voglio dire, il gruppo c'è. Se non c'è la voglia vuol dire che proprio non c'è insomma. Eh però insomma devo dire che le attività che fate anche fuori dal campo, come dire, invogliano e sicuramente chi fa parte della vostra realtà lo fa con convinzione e con quello spirito poi di divertimento. Vediamo anche dai colori e poi dal nome Borussia Dormo è il riferimento alla formazione tedesca. Come è nato questo nome, questa scelta? È nata da una partita... Stiamo ovviamente la maglia, sì. Riccardo vai così. È nata da una partita del Borussia con la Juventus dove si pensava che il Borussia dominasse e invece si sono addormentati e la Juventus l'ha asfaltati di qualche anno fa. e quindi è nata così. Cioè è nata in quell'anno poi la vostra... No, era nata prima con un altro nome e poi si è diciamo sciolta per l'80% della squadra e abbiamo ricreato i pochi che sono rimasti una società nuova con un nuovo nome e ragazzi vogliosi di giocare e divertirsi. Assolutamente, è che quest'ironia nel nome è testimonianza poi di quello che è lo spirito di questa realtà. Riccardo, torniamo però a parlare anche di calcio a 11 dobbiamo aprire la pagina dedicata alla prima divisione avremo anche un servizio relativo a questo campionato cominciamo dal girone a risultati e classifiche. Partiamo dal girone a 3-0 dal Pion San Germano sul Falciano 2-2 Lions, Leo Castelluccio Desmo, Santa Maria 3-1 il Capona batte 2-0 nel big match di giornata il San Marco 2-2 Fra Patrignone e Bocastrada il Piazzetta batte 2-0 il Barla Siesta Quarata, Poppi 1-0 il Banco Latino batte 3-2 l'indicatore in testa della classifica il Capona con 29 punti poi San Marco 23 Bocastrada 21 l'indicatore Banquatino Piazzetta 20 Lions, San Leo, Barla Siesta, Falciano 18 Pionta San Germano, Castelluccio a 14 punti poi Poppi, Desmo 13 Quarata 11 Patrignone e Santa Maria 8 Ecco, hai citato tu lo scontro diretto al vertice questa vittoria esterna del Deportivo Capolona in un certo senso crea una frattura che può essere quasi decisiva per la vittoria del campionato 6 punti differenza e a pari punti il Capona avrebbe i sconti diretti a favore quindi attualmente la squadra casentinese diciamo si sta facendo valere per riuscire ad andare direttamente in eccellenza dopo che l'anno scorso ha fallito di un punto mi pare la promozione il San Marco rimane comunque al secondo posto ricordiamo andando di sopra le prime due le altre faranno i play-off play-off attualmente occupati da Bocastrada indicatore Banquatino e Piazzetta ma ci sono altre tre compagini che lotteranno fino in fondo Lion Salleo Barla Siesta e Falciano poi c'è una spaccatura su questo campionato abbiamo il servizio di questa settimana è relativo alla gara tra Capolona e Patrignone allora vediamocelo Gian Maria Sisti il giocatore del Deportivo Capolona questa sera la gara contro il Patrignone che tipo di partita ti aspetti? allora senz'altro sarà una partita abbastanza difficile credo nonostante loro siano in fondo alla classifica però noi dobbiamo rimanere concentrati per portare a casa l'obiettivo che per noi deve essere la vittoria perché dobbiamo cercare di continuare il nostro buon cammino per vedere di fare qualcosa di buono ecco parlando appunto degli obiettivi del Capolona potrebbe esserci quello quest'anno vedo in testa attualmente il campionato di arrivare in eccellenza sì sinceramente ce la spieghiamo tutti certo rimaniamo sempre con i piani per terra perché non è la matematica a decidere la nostra promozione però ci speriamo ci alleniamo giochiamo per questo e vediamo cosa ne viene fuori poi una squadra recente qualche anno che è stata fondata tutti i ragazzi giovani volevo chiederti come avete vissuto il passaggio magari molti voi dalla federazione alla Wisp ma sinceramente cioè devo dire che è stato in fondo e in fine un buon e un bel passaggio perché come hai detto te siamo tutti ragazzi del posto siamo un buon gruppo e in pratica abbiamo deciso tutti insieme a tavolino di fondare questa squadra per soprattutto divertirsi e cercare di fare qualcosa di bello per il paese e per noi per ora sta andando molto bene devo dire ecco parlando del livello di campionato che tipo di prima categoria avete trovato quest'anno? ma sinceramente sempre abbastanza competitiva forse a differenza degli anni passati non ci sono le squadre proprio a mazza campionato come poteva essere l'anno scorso CSBS o lo stesso Partina comunque sia è abbastanza equilibrato e molto divertente devo dire vi lascio la partita buona gara e buon campionato ok grazie mille ciao siamo qui con Valentini Massimo capitano del Patrignone questa sera una sfida che vede contro la capolista il giro del Deportivo Capolora che ti aspetti da questa gara? mi aspetto di portar via almeno qualche punto anche questa sera visto che stiamo uscendo le ultime prestazioni siamo un po' cresciuti quindi stiamo ritrovando un po' di fiducia a noi stessi che c'era un po' mancata perché riuscivamo perdevamo delle partite proprio che non meritavamo quindi anche la fiducia è andata un po' a sparire e quindi alcuni si sono un pochino defilati sono andati a giocare un po' meno invece gli anni passati si era sempre 18-20 anche nelle convocazioni ecco a proposito di questo da chi po' di ragazzi è composto la rosa del Patrignone? ma noi siamo diciamo siamo un po' alzati la media siamo rimasti un pochino più ci sono dei ragazzi giovani comunque sia fanno un gruppo per conto loro e niente siamo assemblati bene perché comunque sia riusciamo a stare bene anche con loro non è che siamo ben amalgamati quindi va bene ci divertiamo comunque ecco ora a prescindere dai risultati che tipo di campionato di prima divisione avete trovato quest'anno? il campionato l'abbiamo trovato proposto a diverse squadre preparate che hanno proprio la mentalità di giocare difficilmente sono posizionate manualmente in campo anche i giocatori nel complesso sono tutti giocatori di una buona qualità insomma è difficile vedere uno svarione dopo noi quest'anno siamo è un'annata un po' strana quindi ripeto è difficile anche calcolare l'annata precisa ancora comunque sono tante le partite ancora ci 15 mi sembra 14 15 partite ci proviamo se dobbiamo riusciamo a riprendere fiducia farei ancora più gruppo di prima forse ce la facciamo dai grazie buona partita e buon campionato abbiamo ascoltato le parole dei rappresentanti di Deportivo Capolona e Patrignone siamo rimasti poi ad assistere alla partita che si è giocata al campo sportivo di Capolona la gara è terminata 2 a 1 per i padroni di casa in gol per il Capolona Giuliani e Pallotti per il Patrignone accorcia le distanze e paffetti su calcio di punizione ma poi la partita termina 2 a 1 il Capolona con questa vittoria rimane in testa della classifica con 27 punti frutto di 12 vittorie 3 pareggi e una sconfitta su 16 partite giocate 32 gol fatti e 10 i gol subiti seconda miglior difesa del girone miglior attacco del campionato con questa sconfitta il Patrignone invece rimane fa l'animo di coda con 7 punti frutto di 2 vittorie 3 pareggi e 11 sconfitte 14 gol fatti e 32 i gol subiti nella prossima gara il Capolona giocherà in trasferta contro il Salmarco big match del girone prima contro seconda mentre il Patrignone sarà in casa contro il Boca Strada Junior Prima di tornare a parlare con Francesco Fantoni del Borussia dormo Riccardo apriamo anche la pagina dedicata al Girone B di prima divisione e risultati classifichi apriamo quindi il recupero la vittoria del San Lorenzo contro le Chianacce poi per questa giornata 1-1 fra Montalto e Chianacce 1-1 anche fra Monti United e Gagliarda Parigiano 0-0 Battifolle e Farneta il Pontugliano batte 3-1 il Superstar poi 0-0 fra San Lorenzo Fogliano e Alberoro Badiese la BM batte 1-0 Asinelonga e Arezzo Est 2-1 sul Pergo per questi risultati la classifica dice Alberoro in testa con 24 punti poi Monte United D'Arezzo Est 23 Ponte Buriano 22 ABM 21 Battifolle 20 Pergo 17 Badiese 16 a 15 troviamo Montalto e Farneta 14 Gagliarda e MCL e Foiano San Lorenzo poi a 13 Chianacce 12 Superstar 11 Asinelonga 8 e allora tra i match più interessanti era quello appunto tra Alberoro e Badiese avevamo avuto poi proprio i rappresentanti della Badiese settimana scorsa alla fine un pari un Alberoro che come dire dopo due sconfitte non riparte in quarta merito ovviamente anche della Badiese e davanti classifica sempre cortissima si è inceppato l'Alberoro possiamo definire così il momento di crisi che ha la squadra attualmente comunque rimane prima in classifica a un punto di distacco da Monte United e Arezzo West che stanno continuando il loro progetto di crescita e in vista diciamo della zona promozione ma dietro abbiamo il Ponte Buriano e l'ABM che con l'ABM con Superberterame giocatore rappresentativa anche Wisped di Arezzo sta sicuramente scarando le classifiche allora intanto poi chiedo al nostro giudista Jonathan Barillari di mandarci in sovraimpressione la classifica del girone di serie B di calcio a 5 quella dove è protagonista il Borussia Dormo e così la commentiamo insieme anche a Francesco ti chiedo fino adesso che stagione è stata per voi? Una stagione di alti e bassi sempre nei primi tre posti della classifica secondi terzi secondi terzi purtroppo gli infortuni ci hanno voluto dire tanto abbiamo quattro portieri tre infortunati e uno come ripeto non ha voglia quindi è un bel problema quindi importa chi ci va la domanda che nasce spontanea abbiamo recuperato un infortunato che si è messo un busto alla schiena per poter stare in piedi stoico proprio certo è l'ultima partita purtroppo dobbiamo tesserare un altro portiere che sostituisca anche questo che lo devo ringraziare Procelli Matteo che è un nostro ha agitato il cuore proprio oltre l'ostacolo diciamo comunque in fortuna parte classifica che dice Borussia Dormo attualmente terzo nel girone B gli obiettivi possono essere quelli di guardare anche una promozione abbiamo perso le tre partite più importanti Zilloni Corito Free Sport che sono dietro di noi dirette inseguitrici e Ercolana proprio ieri sera fresca fresca quindi questo come dire è un campanello d'allarme rispetto al fatto magari che magari gli infortuni o forse magari un qualcosina in meno rispetto alle altre oppure no siamo siamo 13 infortunati e abbiamo 13 scusate tesserati e abbiamo 6 infortuni quindi a parte quello è un momento in cui ci siamo un attimino spenti diciamo mettiamola così però l'entusiasmo c'è comunque di cercare di vincere questo campionato e ci proveremo fino alla fine queste sono parole comunque di grande fiducia nonostante i momenti che nella stagione ci possono essere per vari fattori come Francesco ci ha appena illustrato Riccardo prima di andare alla top 11 ovviamente attesissima chiudiamo la pagina dedicata alla prima divisione velocemente il girone del Valdano si andiamo a leggere quello che è successo nel girone del Valdano con il Reggello battuto 5 a 1 la Ginestra poi il Matassino 2 a 1 contro la zona franca Piandiusquese battuto in trasferta 1 a 0 il San Cipriano Salisfine Levane 3 a 1 Caccia Cicogna 1 a 0 Leccese battuto 1 a 0 La stagione Azzurra Valdano in testa come di consuetudine la coppia Caccia-Sparta-Reggello con 25 punti poi Leccese 21 Stagione Azzurra Valdano sale sfine 17 Matassino Castelfranco 15 Arcilevane 13 Piandiusquese 11 San Cipriano 10 Cicogna 7 Ginestra e zona franca 1 punto ovviamente l'appuntamento con la prima divisione per settimana prossima Riccardo la top 11 la rubrica più attesa come dico sempre se non siete d'accordo la prendete con Riccardo Buffetti che sono stati per te i migliori 11 per te per la UISP ovviamente i migliori 11 di questa settimana Partiamo dal portiere Brocchi del Corzalone porta in violata nella gara vinta contro il Gricignano difesa 3 con Casucci e Papata in gol nel 4-1 contro il Cavallino la Vorca del Deportivo Capona perno di difesa della squadra che ha vinto 2-0 contro il San Marco e Vagnetti del Pescaiola gol vittore nella gara contro il Renzino centrocampo Tangara a Stelle Azzurra doppietta fondamentale nel 3-0 contro il River Partina poi troviamo Giuliettini e Rigutino giocatore della rappresentativa tripletta per lui nella gara vinta 4-0 contro la Rizzo United Panichi del Piazzetta doppietta decisiva contro il Barla Siesta e Gorellini nel Ponte Buriano doppietta anche per lui permettono alla squadra di battere il Superstar in avanti tridente offensivo composto da Saracino e Nualt Boca due reti decisive del centroavanti nel 3-0 contro il CSBS Casentino Campesi dei Gold Boys doppietta anche per lui una vittoria contro il Degomagno e Donnini Drunk e Lions tripletta fondamentale da attaccante nel 3-3 contro il Vitiano grazie Riccardo la top 11 ovviamente tornerà settimana prossima allora siamo in conclusione di questo secondo spazio io ringrazio Francesco Fantoni presidente allenatore Factotum come abbiamo capito delle Borussia dormo in bocca al lupo ovviamente per il proseguo del campionato adesso pubblicità e poi terza ed ultima parte di Pianeta Wisp continueremo a parlare di Calcio 5 terza parte di Pianeta Wisp come vedete abbiamo anche cambiato un po' nella scenografia perché sono tanti gli ospiti che chiudono questa puntata numero 13 di Pianeta Wisp continuiamo a parlare di Calcio a 5 ovviamente poi con Riccardo completeremo anche l'analisi dei campionati di Calcio a 11 analizzando quello che è accaduto in seconda divisione ma vado a presentare gli ospiti che ci faranno compagnia in questa ultima parte di trasmissione sono i rappresentanti dell'IBS Lecrete formazione che milita nel campionato di Calcio a 5 Serie B allora parto dalla mia sinistra alla vostra destra nel presentarli il vicepresidente e il direttore sportivo Alessandro Rossi buonasera Alessandro accanto a lui Piero Menchichi che è dirigente accompagnatore buonasera buonasera anche a te Piero poi proseguiamo il giro con il capitano Fabio Kellini buonasera ciao Fabio e chiudiamo con un altro calciatore Matteo Bindi buonasera ciao Matteo allora cominciamo da il capitano visto che ce l'ho qua vicino a me intanto che stagione è stata fino adesso e come vi trovate anche nel campionato diciamo nell'organizzazione a retina perché ricordiamolo voi venite da Rapolano quindi dalla provincia di Siena sì ci stiamo trovando molto bene per noi è un'esperienza tutta nuova siamo partiti abbastanza bene per adesso siamo al quarto posto in classifica in concomitanza con altre due squadre per cui il bilancio è decisamente positivo ci stiamo divertendo ci stiamo impegnando chiaramente anche i risultati aiutano in questo speriamo di arrivare in fondo al campionato sempre mantenendo questa strada posso dire che l'obiettivo lo abbiamo già centrato l'obiettivo era quello di divertirci giocare tutti ci stiamo riuscendo e siamo molto contenti di questo ne parlavamo prima di andare in onda tu sei uno dei fondatori poi di questa realtà insieme ad Alessandro Rossi poi vi chiederemo un po' anche quello che è la vostra storia intanto ti chiedo anche però da calciatore come trovi anche l'organizzazione della realtà retina della Wisp per quanto riguarda il calcio a 5 sì per me è il secondo anno perché lo scorso anno già ho militato in questo campionato mi ero trovato molto bene e sono contento di parteciparvi anche quest'anno è bello ci sono le squadre ben organizzate c'è molto agonismo tutti hanno voglia di far bene per cui ci dà sempre uno stimolo in più anche a noi per cercare di migliorarci gara dopo gara ecco volevo coinvolgere anche Matteo Matteo Bindi microfono a posto allora ti chiedo se anche per te la prima esperienza o quanto sì la prima il primo anno che sei con la squadra la squadra Wisp ecco e qual è stato l'impatto in questi mesi insomma ovviamente mi sono trovato molto bene mi diverto anche parecchio a giocare e quello secondo me è la parte più importante soprattutto no a livello di organizzazione sono parecchio organizzati sia le squadre sia come come associazione diciamo quindi tu avevi un'esperienza magari in FGC quindi sì no a livello di organizzazione è cioè è parecchio organizzata come la FGC per il divertimento va bene e anche le squadre come ha detto Fabio sono parecchio organizzate e ci danno parecchio del filo da torcere sia in qualunque posizione di classifica sia o no ebbene questo è sicuramente più stimolante allora io vorrei concludere anche questo primo giro riparto da Alessandro Rossi tra l'altro Riccardo ci sono delle curiosità interessanti su questa società intanto chiede Alessandro da quanto tempo è che fate la vostra attività è un'attività come dire che ha molti molti aspetti sì noi abbiamo iniziato con Fabio proprio quasi per gioco nel 1999 quindi ormai sono tra poco 20 anni che ci occupiamo di calcio a 5 in particolar modo anche se abbiamo avuto due esperienze nel calcio giovanile a 11 con i bambini con le categorie esordienti però fondamentalmente nasciamo come società di calcio a 5 e quindi sia nei campionati provinciali che nei campionati regionali sia in provincia di Siena e adesso nella provincia di Arezzo che appunto Fabio ce ne aveva parlato bene e ci ha coinvolto come società in questa in questa esperienza nella provincia di Arezzo e come giustamente ha detto lui è un'esperienza veramente positiva perché c'è una buona organizzazione e quindi quando fai dei sacrifici ti sforzi per portare avanti un'attività sportiva e trovi il riscontro in una lega che ti dà soddisfazione nell'organizzazione nelle cose che fai viene tutto più volentieri lo fai molto più volentieri anche perché poi c'è comunque da tener conto che voi quando vi spostate le trasferte comunque sono sempre abbastanza lunghe perché sì per noi è sempre una trasferta in casa giochiamo ad Asciano anche se è vicino però sono sempre 8-10 km e non avendo un campo di proprietà quindi o comunque in gestione diretta siamo costretti sempre un po' a migrare anche se fortunatamente nel campionato di calcio a 5 FGC riusciamo a giocare per adesso nella palestra di Rapolano in attesa di riuscire a coinvolgere anche la nostra amministrazione comunale nella realizzazione di un impianto perché territorialmente diciamo il calcio a 5 è ben radicato e noi ne siamo una testimonianza insomma con la nostra storia da 20 anni abbiamo sempre migrato a destra a sinistra però abbiamo sempre cercato di portare avanti la nostra attività e quindi si spera sinceramente che proprio l'amministrazione comunale sembra che sia sensibile nel realizzare un impianto proprio funzionale dedicato al calcio a 5 questo ovviamente ve lo auguriamo vorrei chiudere questo primo giro di opinione con Piero Menchichi dirigente accompagnatore a proposito di logistica insomma chi deve stare dietro alla squadra ha il suo bel da fare ogni settimana c'è da girarsi tante le scatole perché c'è da stare dietro c'è da pensare le distinte andare a fare cartellini c'è da pensare a tante cose c'è il nostro non so solo però c'è anche il mister c'è l'altro l'altro nostro aiutante il nostro presidente che c'è anche lui a dare una mano e la squadra è un lavoro comunque dietro le quinte ma prezioso insomma sì 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 tanto tanto giuramento di scatole perché c'è da stargli dietro tanto però la fine è un divertimento ed è passione comunque come ci raccontavano anche sia Fabio che Matteo Riccardo torniamo a parlare di calcio a 11 poi proseguiremo ovviamente con i nostri ospiti perché dobbiamo aprire la pagina dedicata alla seconda divisione partiamo dal girone A risultati e classifiche andiamo dal girone A c'è giocato il recupero in settimana fa arrivare il club emotivo ha terminato 1-1 in questa giornata 0-0 fra Bayer Bidu Monaco e Aretinos Junior il River Club batte 3-2 Darcy Saione 2-2 fra Motina e Locomotive Rassina salutio Ceciliano 1-0 il ciclone batte 1-0 Lagazzi Randagia Real Madrid 1-0 e Novitugia batte 3-2 Iglia Marcena per questi risultati la classifica vede in testa il River Club con 20 punti poi ciclone Novitugia 19 Ceciliano e Aretinos Junior 18 Locomotive Rassina 17 Ragazzi Randagia 16 Motina salutio 13 Bayer Bidu Monaco 12 Real Madrid Marcella 11 Saione 5 Allora anche qua Riccardo cosa possiamo dire dopo quest'ultimo turno? Classifica cortissima in testa classifica ogni settimana troviamo una nuova squadra in questo momento troviamo River Club secondo il ciclone che qualche giornata fa addirittura nelle zone basse della classifica ha avuto una gran rimonta si trova attualmente al secondo posto al pari alla nuova Biturgia e allora seguiremo ovviamente con attenzione anche l'evolversi di questo girone tu tra l'altro hai avuto modo anche con Alessandro in questi giorni di sentirvi ci sono anche Alessandro delle attività che vanno oltre poi l'aspetto prettamente sportivo tra l'altro mi dicevi che nei componenti a rosa c'è anche diciamo a vostro favore uno scambio internazionale con alcuni giocatori del Giappone noi abbiamo una collaborazione in atto esclusiva per quanto riguarda anche la nostra provincia con l'Euro Plus International che è un'agenzia che lavora a livello internazionale europeo mi sembra sette sedi dislocate nel mondo soprattutto in Europa con sede a Tokyo la sede centrale a Tokyo e praticamente loro cercano di fare un interscambio culturale finalizzato allo sport con i ragazzi che praticano l'università studenti giapponesi di vario livello non solo dell'università ma anche di liceo quindi all'interno della vostra squadra ci sono dei calciatori che vengono da Giappone esatto noi per esempio nel mese di gennaio febbraio facciamo una sorta di scouting scambio interculturale proprio per far capire e far conoscere a questi ragazzi la nostra realtà che una volta poi tornati in Giappone si mettono a disposizione per poter poi l'anno seguente venire ed essere tesserati da noi per poter giocare nei vari campionati in WISP e FGC che sono quelli che facciamo in questo momento e adesso ne abbiamo due due ne avevamo anche l'anno scorso ecco volevo tornare da da Fabio e anche Matteo quindi voi vivete anche questo aspetto di scambio interculturale con dei compagni che vengono da realtà completamente diversa come vi relazionate e quanto vi arricchisce questo aspetto? ma sicuramente è un aspetto molto interessante perché arricchisce sia noi che loro noi abbiamo da imparare da loro loro da noi i ragazzi che ci sono quest'anno si sono integrati molto bene siamo contenti anche loro sono contenti dei compagni di squadra che hanno trovato perché lo vediamo perché partecipano allo spogliatoio non stanno per fatti loro diciamo si sono integrati benissimo e noi siamo molto contenti perché ci dà uno stimolo in più anche per il futuro perché se verranno altri al posto di loro saremo ben contenti di accettarli con noi ecco Matteo ti chiedo come vedono anche le altre squadre questa volta in questo scambio interculturale quindi c'è curiosità quando magari vedono scendere in campo magari in genere vedono ragazzi giapponesi e diciamo si spaventano alcuni ora non conosco dei ragazzi che mi hanno detto portate i giapponesi ma troppo facile no non è vero secondo me l'arma segreta no perché soprattutto è fatto per divertirsi soprattutto perché loro ci ho parlato e si divertono parecchio in questa realtà di Wisp cioè uno sta facendo anche parecchio bene ha fatto già diverse reti in 19 mi sembra e nulla con loro ci relazioniamo bene perché ci capiamo loro stanno imparando l'italiano sono parecchio vogliosi di imparare utilizzate l'inglese come lingua principale oppure si un po' anche l'inglese quando non ci intendiamo italiano parlano un po' anche inglesi anche un po' Gesù un po' il traduttore eh no questa è una cosa molto interessante Piero proprio su questo anche nel tuo ruolo di dirigente accompagnatore è anche importante parlavamo poi del fatto che questi ragazzi sono integrati nello spogliatoio anche nella fase iniziale per accoglierli per farli proprio integrare anche con quelli che sono poi i metodi del resto del gruppo ma loro ci trovano bene con noi vengano come ha detto il nostro capitano si divertono nello spogliatoio si scherza sembrano cioè fanno parte della famiglia perché la nostra squadra non è una squadra ma è una famiglia è tutta una famiglia ci si diverte si scherza si fa le scene tutte insieme come ripeto è una famiglia Allora prima poi di una considerazione alcune considerazioni finali con i nostri amici dell'IBS le crede tratta una realtà molto molto interessante come avete potuto anche capire e comprendere Riccardo chiudiamo la pagina dedicata alla seconda divisione con il girone risultati classifiche andiamo a leggere i risultati di questa giornata 0-0 tra Valdichiana e Bergo Liveto Gold Boys il rigomagno 3-1 QPS Andrea Fonterosa parigiano 1-1 il Zampolo batte 3-1 in trasferta Motori Foiano poi il Montagnano batte 2-0 il Bucinella Barle Fonti 3-0 Valdeorito Real Pieve 0-0 testa classifica il girone B rimane l'isola con 25 punti poi Fonterosa 21 San Polo Rigomagno 19 Bucinella Prata Antico 18 a 17 punti troviamo Valdichiana Gold Boys e Montagnano Albergo Liveto 15 Matori Foiano 13 QPS Andrea 11 Barle Fonti 9 Valdeorito 8 Real Pieve 5 30 secondi Riccardo cosa possiamo dire di quest'ultima giornata perde il Rigomagno 3-1 contro i Gold Boys sconfitta inaspettata diciamo lo allontana un po' dai prime due posizioni Valde per andare in prima divisione ricordiamo che passeranno in prima divisione le prime due direttamente poi dalla terza alla sesta ci saranno i playoff Alessandro volevi aggiungere una cosa interessante proprio in questo scambio interculturale perché vengono sì dei ragazzi del Giappone ma anche un vostro ragazzo è andato sì assolutamente ora nelle vacanze di Natale perché poi i ragazzi giapponesi vivono in casa insieme a un altro ragazzo che ha scelto di vivere nelle nostre zone che viene dalla Sicilia e gioca con noi e è stato ospitato da loro da uno di loro in particolar modo in Giappone presso la propria famiglia e è stato presentato praticamente a loro come un fratello perché qui condividono praticamente tutto come gli altri ragazzi della squadra e noi della società quindi non è facile spostarsi no? sette otto mesi vivere a distanza di migliaia di chilometri con culture completamente diverse assolutamente quindi è molto bello quando c'è questo interscambio e complimenti ovviamente vi auguriamo di continuare a portare avanti questo progetto mentre Piero ci fa vedere la sciarpa ufficiale dell'IBS le crete una battuta finale con il capitano tra l'altro ci avete fatto anche un regalo ah sì perché poi nella sciarpa c'è il nostro motto fondamentale che è il retro facciamolo vedere così il nostro Jonathan tenacia e orgoglio che sottrae tre elementi fondamentali per un ottimo concetto di quello che per noi è lo sport inteso in questo senso assolutamente Fabio prima facevamo una battuta visto che questi giapponesi sono come dire non proprio alti fisicamente te li sei presi diciamo che io sono alto quasi il doppio rispetto a loro in qualità di capitano mi sono preso un po' diciamo l'impegno di inserirli all'interno del gruppo e dello spogliatoio l'ho presi sotto la mia ala protettiva appunto perché sono alto il doppio rispetto a loro e anche perché li ho scelti come mie preferite vittime designate per gli scherzi visto che io sono conosciuto piuttosto anche come uno che tiene alto il morale del gruppo per cui sempre scherzando ma sono esatto quest'anno purtroppo non ho avuto molta fortuna con gli infortuni però conto di rientrare per la fase finale del campionato per sperare di portare la squadra in serie A ci stiamo provando ci puntiamo e ci speriamo in bocca al lupo siamo in conclusione di questa nostra puntata numero 13 Riccardo ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti social di pianeta Wisp si potete trovare pianeta Wisp sui social facebook twitter youtube il giovedì dopo la prima messa in onda poi per tutte le notizie dell'evento al calcio a 11 calcio 5 calcio 7 c'è il sito calciusparezzo.it per tutti gli altri sport riguardano il panorama amatoriale wisparezzo c'è il sito wisp.it da quest'anno scaricabile per smartphone l'applicazione wisparezzo fabio avete ci avete portato anche un si abbiamo la nostra maglia da gioco della squadra Wisp firmata da tutti noi ve la regaliamo un segno di ringraziamento per questa grazie a voi per essere venuti comunque anche avete fatto un po' di chilometri anche se siete abituati però questo ci fa piacere ovviamente l'auspicio di riavervi magari prima della fine della stagione sportiva io ricordo l'appuntamento il mercoledì alle 22.30 su Teletru le altre repliche le vedete in sovraimpressione ringrazio Jonathan Barillari che ha curato le riprese e la regia l'appuntamento con Pioneta Wisp tra sette giorni il mercoledì 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 il mercoledì